Ehi, lanciate, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo qua col Caressione che suona la chitarra e con Teuz che non sta facendo niente, come al solito, come al solito. Ragazzi, eccoci qua, è uscita finalmente la sfida dei Mangiacervelli che dà la possibilità di sbloccare Gas, skin super rara, gratuitamente. L'andiamo subito a fare, è una sfida con quattro tentativi, quindi non è a infiniti, cerchiamo di non giocare come dei cani, possibilmente. E ragazzi, non lo state niente di strano, dietro il mio Larry e Lori ci sta questa, una misteriosa crepa di cui parleremo tra poco, tranquilli, cominciamo subito ad approfondire. Chiaramente devono creare un po' di hype e ve lo tocca le porte. Andiamo a giocarci la sfida, vi mostro un po' un best off e vediamo un pochettino, ragazzi, di approfondire, ok? Io, tra l'altro, non ho neanche cambiato Brawler, c'ho Larry e Lori da tre video oramai. Allora, nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrizione e campanellina, codice ferro in fondo dello shop, ormai conoscete tutte le regole, ok? Cerchiamo di non far troppo schifo, se si riesce, ok? Facciamo così, chissà se... Io, ragazzi, ho trovato un po' di giorni che non gioco Brawler, non mi ricordo più come funziona questo codesto gioco. Guarda, vado a Caressio, guarda Caressio, si fa sfidare da un Sandy, mamma, mamma. Allora, la prima partita, che secondo me si potrebbe giocare molto più chill, si potrebbe giocare molto più chill, magari mettiamo un Brawler decente, però in generale, diciamo che il livello di difficoltà è piuttosto contenuto. Ragazzi, chiaramente, questo bellissimo 6-1, Caressio 0-2, mamma, con questo 6-1, apro lo start-up e ci vediamo direttamente con la sfida fatta, magari vi lascio giusto qualche spezzone. Abbiamo vinto la skin, ragazzi, ok? Non ce ne siamo neanche accorti, abbiamo vinto la skin, ok. Bello il pin, che, vabbè, in effetti è un bel pin. E abbiamo anche lo start-upino, ok? Spiliamoci tutto. Top, ancora 3 start-upini, non male. 4 start-upini, quanti sono? Ok, 4 start-upini, non male, non male. E la skin di casa, sapete cosa vi dico? Che io me la seleziono, perché è una bella, bella, bella skin questa qua. La faccio così, la metto in rotazione con quella dei campioni del mondo. Ok, perfetto. Allora, adesso prendiamo in mano il discorso. Sì, aspettate, seleziona una skin di gas, assolutamente. No, così almeno facciamo, Caressio, mettila anche tu, così facciamo la lobby coordinata, per favore. Iniziamo un pochettino a discutere, mentre giocavamo in chat ce l'hanno scritto in 10.000. Allora, è uscita questa crepa, ok? Allora, oltre alla crepa, sul tweet ufficiale di Brawl Stars è uscito anche questo tweet. Il tweet è questo, ragazzi. Allora, come potete vedere anche voi, è una sorta di messaggio in codice. Dandolo in pasto a un traduttore non si ottengono grandi risultati. Però, qualcuno di voi mi ha detto che dando l'impasto all'AI cambia un po'. Quindi provo a scrivere, ce l'ho aperto sotto mano adesso. Traducimi questo strano messaggio. Il messaggio nell'immagine sembra essere cifrato. Potrebbe essere una sostituzione o un altro tipo di crittografia. Prova. Vabbè, nel frattempo, mentre il nostro carissimo AI continua a provare, vi faccio notare che se zoomiamo la parte in basso a sinistra, ragazzi, appaiono questi quadratini. Spero che si vedano, ok? Al limite in editing vi saturo un pochettino l'immagine in questo punto. Saturandolo si dovrebbe vedere molti di più. Fatto sta che quello sembrerebbe essere un QR code, ragazzi. Un mezzo QR code. E quindi questo lascia anche intuire che l'immagine non sia completa. Allora, vi avete segnalato una cosa molto interessante, ragazzi. Rieccoci poco dopo. Se pigiamo sul libro, in teoria escono delle nuove immagini, ragazzi. Ok, già questa qua è la stessa di Mortis. Ma in realtà, se ci avete fatto caso, è un po' diversa. E se continuiamo ad aprire, in teoria dovreste vedere... Ok, avete visto? Vi faccio rivedere ancora una volta. Non so se ci fate caso, ma le immagini che appaiono sono diverse rispetto a prima. Se ci spostiamo su Twitter, il carissimo Omen mi ha taggato qua. Grazie caro, li metto pure un cuoricino. Mi ha taggato innanzitutto in queste immagini di risposta che fa vedere il QR code che si vede meglio. Ma perché il QR code di cui vi parlavo prima? Perché in questo tweet di Canal77, come potete vedere, si vedono altri pezzi di questo QR code e le immagini sono cambiate. Allora, qua, ragazzi, si vede effettivamente uno strano pipistrello con un occhio. Si vede uno scheletro con due teste e si vedono, appunto, il libro con questi pezzi di QR code sparsi. Qua c'è scritto audit shop, audit shop, quindi è uno shop nuovo. Qua ci sta una testa di zombie, degli altri pezzi di QR code sparsi. Anche qua ci stanno dei QR code e qua su c'è un altro teschio. Boh, ragazzi. Qua non c'è più il brawler dell'altra volta e si vede un grande QR code dietro la cassa. Eh, raga, ci sono un sacco di elementi qua, eh. Ci sono tantissimi elementi. E, signori, rieccoci qua. È bastato aspettare qualche ora e c'è stata la frittata. Siamo su App Store, come vedete, questo è quello in italiano. Quindi ci sono le classiche immagini molto belle che raffigurano un pochettino come il gioco per chi lo scarica per la prima volta. Ma, per chi ha lo store in inglese, e chiaramente è già stato occultato tutto, c'è stata l'apparizione della schermata nuova di caricamento del gioco. Per pur errore, chiaramente. Ta-da! Eccola qua. Questa è la schermata di caricamento presa da Brawl News. Me l'avete girata così, ragazzi. Quindi, cito le fonti che vedo. Non so se l'ha pubblicata chiaramente qualcuno prima. Già qui, in realtà, si vedono... Oddio, quelli che sembrerebbero essere due nuovi brawler? Credo di sì. Questa sembrerebbe essere la skin di Sandy. Questa sembrerebbe essere la skin di Edgar. E questa sembrerebbe essere la skin di... Boh, cos'è questa roba qua, ragazzi? Potrebbe... Ah, è una Willow! Perché è una sorta di lanterna. Potrebbe essere una Willow, ragazzi. Io sinceramente non lo so. Volendo, c'è anche questa immagine, la versione completa, con ancora più dettagli. E qua, ragazzi, ci si può sbizzarrire. Abbiamo, vabbè, palesemente più palesi di così. Ormai, ragazzi, non si può. Il nuovo Hyper Mortis è palesemente lui. Il nuovo brawler, appunto, che si vede un pochettino meglio. Questo sembrerebbe... Un Otis? Aha, questo è Otis, ragazzi. Con una sorta di mano spettrale, demoniaca, che gli esce da dietro la schiena al posto del suo classico spara-inchiostro. E qua c'è il brawler Angelico. Anche qua si vede molto meglio. A me questa, ragazzi, sembra sempre più una Willow. Po' ditemi voi se mi sbaglio. Questo io direi che comunque il ciuffo può essere solo Edgar. Questa sorta di... Vabbè, arma. È Lily. Secondo me è sicuramente Lily. E questo, ragazzi, boh, a me sembrerebbe un Sandy. Ma ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi. Ragazzi, ci si potrebbe aprire le mie teorie qua. Chiaramente qua non vengono spoilerati solo una serie di brawler e skin. Ma vengono spoilerati anche un pochettino, probabilmente, lo stile che avrà il pass. Quindi una sorta di angeli contro demoni. O una sorta di tema ancestrale. E sì, voglio collegarmi proprio a quello che abbiamo discusso l'altro giorno. In Brawl Talk e Previsioni, ragazzi, ci sta una Supercell Make Skin in sospeso, ovvero Belle Ancestrale, lì, che aspetta solo di essere annunciata. E questa, ragazzi, potrebbe essere l'occasione perfetta. Quindi io mi sento di stimare anche l'arrivo di una skin per Belle Supercell Make, del tutto esclusiva, che è stata presa come vincitrice extra. Ragazzi, io con questa immagine penso che veramente il content ce l'avete. Fatevi le vostre teorie. Ormai tra poche ore arriverà il Brawl Talk e lo reacteremo insieme qua su YouTube e anche in live. Grazie mille a tutti per la visione. Noi ci aggiorniamo molto presto. Un salutone. Ciao, ragazzi.